Sì, adorato Gesù, sono lieto di salzare sull'eccellenza, mio signor Romano Gose, il Vescovo di città Castellano. Lui è successore degli apostoli, responsabile con gli apostoli di questa comunità con i suoi predvitori, i suoi religiose, religiose e laici. Lui è caricato al Santo Padre per aprire, come lo ha fatto, questa porta, la porta giubilare della misericordia. Sono molto contento perché ho un grande estimo e sua eccellenza di aver potuto accompagnare in questi giorni così particolari. Sono anche lieto di salzare il vicario in generale, un signor Lorenzo Tartulli, amico da tanto tempo, i padri missionari contemplativi agentes, ma anche della mia diocesi interiore in Colombia, i sacerdoti, i religiosi, le autorità e i fedeli presenti. Sono trascorsi tre anni, da quel 23 settembre del 2012, in cui ho avuto l'opportunità di giungere in questo venerato santuario ai piedi della Santissima Vergine del Sonno e oggi vi faccio ricordo di questa nuova solenne circostanza dell'apertura della porta santa del Giubileo della Misericordia. Questa parola ci riempie il cuore. Questa parola ci porta al Padre che per misericordia ha inviato il suo figlio a salvarci con la passione e la morte, a darci forza con la risurrezione. Questa parola ci porta anche al cuore del Vicario di Cristo che non si stanca mai di promessare la Misericordia. non poteva essere scelto con lo più adatto di questo Sacro Tempio Mariano per celebrare in erito di ero poiché la Santa Madre di Dio è la stessa già nascendo in Maria la porta del cielo, come viene invocata da secoli nelle litanie lauretane, attraverso la quale siamo augurevolmente condotti al trono della Misericordia. Lei ci conduce al trono della Misericordia. La porta è aperta, ma è Maria che porta i nostri cuori ai piedi di la Misericordia del suo Esposto, lo Spirito Santo, del suo Padre, il Signore creatore e del suo Figlio, Gesù. Ci confortano in proposito le parole del Santo Padre Francesco. Così dice il Padre, dopo il peccato di Arambo e Leo, Dio non ha voluto lasciare l'umanità sola e invaria il male. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata nel lavoro perché diventasse la madre del Redentore dell'uomo. «Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono». «La Misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato». «E nessuno può offrire un limite all'amore di Dio che perdona». «Con questi sentimenti marchiamo fiduciosi la santa soglia appena aperta e attenendoci alle condizioni richieste dalla Chiesa, impetriamo da quelli che è non ipotenti per grazia il sospirato perdono dal cuore adorabile di Gesù. «Con grazie, ardente di carità». «Ma non dici, non ti chiamo mai che lei ci ha detto, fate quello che Lui comanda». «La Misericordia è vinculata alla nostra obedienza. Chi ama Dio quello che compra di Suoi comandamenti». «Habbiamo attraversato la porta, mettiamo nella strada di Dio fino al nostro incontro con la Madonna, con San Giuseppe, con il Padre, il Figlio e il Espirito Santo, in Paradiso. Amén». «Amen».